La sconfitta netta e pesante rimediata sul campo di Aversa domenica pomeriggio è stata letteralmente una botta per il Catanzaro Calcio. Ma ora a cominciare dal derby di domenica prossima contro la Vigor Lamezia, la formazione di Stefano Sanderra intende reagire per tentare di sferrare l'ultimo assalto alla zona playoff. E questo è il pensiero del centrocampista Giacomo Zappacosta. Sì, è giunto inaspettato, non ce l'aspettavamo. È stato un colpo a freddo aver subito quei due gol in sei minuti che ci hanno tagliato un po' le gambe. Poi è mancata un pochino la nostra reazione, è stata una domenica storta. Meno male che è venuta a 12 giornate dalla fine del campionato, ci serve da lezione. Intanto domenica c'è una gara importante, si ritorna al Ceravolo, un altro derby dopo quello con il Cosenza. Domenica c'è la Vigor Lamezia. Sì, sappiamo che è una squadra ostica, verrà sicuramente qui a Catanzaro a chiudersi per cercare di portare i punti a casa che gli serviranno per la salvezza. Noi dobbiamo essere bravi, pazienti e dobbiamo fargli capire che giocano a Catanzaro, che a casa nostra tre punti sono nostri. Una vittoria per dimenticare quanto è accaduto domenica ad Aversa, ma soprattutto per riprendere il cammino interrotto inaspettatamente a domenica ad Aversa. Sicuramente, sicuramente dobbiamo tornare alla vittoria e riportare l'entusiasmo che si era creato fino a domenica contro l'Aversa. Credo che ci sarà ancora, perché abbiamo fatto un filotto di vittorie consecutive. Noi faremo di tutto per dare questa gioia ai tifosi, sapendo anche della sconfitta e dell'andata. Alla ripresa della preparazione, com'è stato l'impatto nello spogliatoio? Ci siamo parlati, abbiamo detto, siamo guardati in faccia, prestazioni come quelle di domenica non dovranno più succedere. Va bene perdere, ma dobbiamo perdere con un altro spirito, battagliando. Forse è arrivato al momento giusto, come ho detto in precedenza, ci serve da lezione. Per il momento si archivia il pensiero ai play-off e si guarda magari domenica per domenica? Sì, sicuramente. Guardiamo domenica per domenica e poi dopo Pasqua apriamo la classifica e vediamo dove ci troviamo. Sì, sicuramente.